L'inflazione a patto che sia bassa e stabile è un fenomeno desiderato in quanto favorisce la crescita economica aiutando a pianificare il business e a gestire i costi. Senza inflazione i prezzi diminuirebbero e ciò creerebbe una situazione difficile per le imprese interessate. Tuttavia un'inflazione eccessivamente elevata è un problema. Innanzitutto l'inflazione crea incertezza sul mercato, le aziende di conseguenza non possono pianificare il proprio budget e le famiglie non sanno quanto valgono esattamente i loro redditi, i mutui diventano costosi, le volute perdono competitività e le azioni soffrono di tassi di interesse più elevati. Le conseguenze sono molte esplici ma pochi investitori se lo ricordano. Ciao a tutti e bentornati sul canale O Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto ed educatore finanziario AIF, nonché autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, il libro del quale trovi il link qui sotto nel caso tu lo voglia acquistare, dove racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito. L'elevata inflazione è stata la principale causa del tumultuoso del decennio degli anni 70. Gli investitori all'epoca hanno imparato la lezione. L'inflazione significava tassi di interesse più alti e mercati ribassisti, mentre il periodo di inflazione in calo dei due decenni successivi ha portato a un grande mercato rialzista. Le economie sviluppate non hanno assistito a livelli di inflazione così elevati da allora fino a tempi recenti. Non c'è da stupirsi perciò che l'aumento dei tassi di inflazione in tutto il mondo abbia causato nervosismo nel mercato. Il report di XTB che vi sto presentando a video è fonte appunto di questo contenuto. XTB, piattaforma con la quale collaboro da più di un anno, ha emesso questo report sull'inflazione che, oltre a comparare l'inflazione degli anni 70 con le sue similitudini con quella attuale, propone anche delle idee di asset utilizzabili nella situazione attuale, tanto inaspettata e tanto temuta. Consultando un qualsiasi libro di economia scoprirai che il prezzo è funzione della domanda e dell'offerta. Tale concetto sembra semplice sulla carta, ma le relazioni dell'economia globale sono così complesse che quasi quattro decenni di bassa inflazione hanno seminato dei dubbi. In effetti un numero crescente di policy makers ha iniziato a sostenere che una politica espansiva non si sarebbe tradotta in un aumento dell'inflazione. Alcuni di quei fattori che hanno contribuito a mantenere bassa l'inflazione per anni hanno iniziato a rallentare anche prima della pandemia. I processi di globalizzazione sono rallentati e invertiti fra le guerre commerciali sino-americane. Le politiche ambientali, sebbene spesso necessarie o addirittura viste come deludenti, hanno iniziato ad aumentare i costi per le aziende. Il problema principale tuttavia è stata la risposta alla pandemia globale. Mentre le aziende sono state paralizzate da blocchi e restrizioni, la domanda è stata stimolata dalla stampa di denaro e dalla generosa spesa fiscale sotto forma di sussidi di disoccupazione, assegni per i privati e aiuti per le imprese. L'elevata domanda e l'offerta limitata si sono ovviamente tradotti in prezzi più elevati, semplicemente non c'è altro modo per aggirare questa dinamica. A peggiorare le cose le banche centrali hanno ignorato i primi indicatori di aumento dell'inflazione definendolo temporaneo e ciò ha ritardato una risposta all'aumento di prezzi e ha consentito una maggiore ancoraggio alle pressioni sui prezzi, proprio come è accaduto negli anni 70. Le somiglianze con la prima metà degli anni 70 sono significative anche a un'occhiata superficiale. La guerra, allora in Medio Oriente, e il relativo aumento dei prezzi del petrolio caratterizzano entrambi i periodi. Sorprendentemente anche l'entità dell'aumento dei prezzi delle materie prime è stata simile. Tra il 72 e il 74 era più 182%, come misurato dall'indice dei prezzi GSC, mentre ora, diciamo da aprile 2020 a giugno di quest'anno, è del 199%. Tuttavia ci sono ancora più somiglianze. Cominciamo con gli aspetti positivi. Nel 1974 il picco del mercato delle materie prime ha comportato anche un picco dell'inflazione per diversi anni. L'indice di prezzi delle materie prime ha raggiunto un picco nel novembre del 1974, quando è stata registrata l'inflazione più alta, mentre il fulcro dell'inflazione, escluso i prezzi dell'energia e dei generi elementari, ha raggiunto il picco tre mesi dopo. La sovrapposizione dell'indice e dell'inflazione annuale mostra una chiara correlazione. Ciò sembrerebbe con validare l'aspettativa del mercato di un calo dell'inflazione confermata di recente dai molto più bassi ESM Price Paid Index. Qui tuttavia entrambi mostrano un calo dell'indice anche prima del picco del GSC e la stessa relazione di inflazione sembra essere più forte solo con l'indice GSC, quindi la componente dei prezzi pagati dell'ISM è piuttosto secondaria di importanza per noi. Vale la pena notare tuttavia che non è il picco dell'inflazione in sé, ma il suo ritorno all'obiettivo che è del 2% il problema. Negli anni 70 la Fed non aveva ancora un obiettivo di inflazione, era stato implementato solo nel 1995, ma possiamo vedere chiaramente che l'inflazione fulcro prima dello shock era inferiore del 3%, mentre dopo il 1974 non è scesa al di sotto del 6% e dal 1978 ha ripreso a salire. Il mercato del lavoro è spesso citato come la ragione del perpetuarsi dell'inflazione negli anni 70. L'ampio ruolo dei sindacati significava pressioni al rialzo sui salari e salari più alti consentivano di accettare i prezzi più alti. Vale la pena notare tuttavia che la dinamica salariare al picco dell'inflazione, circa il 5,5%, era simile a quella dell'attuale degli Stati Uniti d'America e inferiori in termini reali. I dati del 2020 e del primo semestre 2021 sono un'aberrazione della cassa integrazione dei lavoratori a bassa retribuzione. I prezzi hanno iniziato a salire nel 1975, ciò ha contribuito ad ancorare l'inflazione a livelli più elevati. Il fatto che l'inflazione abbia iniziato a scendere insieme ai prezzi delle materie prime è stato il risultato dell'innesco di una profonda recessione, una volta a causa dell'aumento dei prezzi e due volte per via della politica della Fed. Normalmente un'economia in indebolimento riduce le pressioni sui prezzi e quindi l'inflazione spesso diminuisce in base alle letture macroeconomiche più deboli. Negli anni 70 l'inflazione stava aumentando insieme a letture macro più deboli perché letture macro più deboli erano causate da una maggiore inflazione. Lo stesso è vero anche oggi. Cosa fare adesso? Con il mercato del lavoro forte e l'inflazione elevata la Fed potrebbe ignorare l'inflazione persistente a proprio rischio. Come si vede nel rapporto se non andate a leggere e approfondire l'allentamento della presa monetaria troppo presto ha portato a un altro picco di inflazione negli anni 70 e la Fed, nonostante i segnali promettenti del mercato delle materie prime, potrebbe prevedere uno scenario molto simile. Attualmente la Fed ha due opzioni. L'opzione 1 è la pivot. Questo è ciò che cercano i mercati. La speranza è che la Fed si ritiri dall'innasprimento della politica e consenta la ripresa economica. Molto probabilmente ciò comporterebbe un ritorno all'inflazione ma per i mercati sarebbe una preoccupazione per il futuro. Il pivot della Fed potrebbe essere positivo per gli 11 degli Stati Uniti d'America, il petrolio, i metalli preziosi, le criptovalute e allo stesso tempo negativo per il dollaro americano. L'opzione 2 è quella meno favorita o meno diciamo percepita come positiva da noi investitori e sradicare completamente l'inflazione. Questo è ciò che la Fed continua a comunicare e vogliamo assicurarci che l'inflazione scende al target del 2% e rimanga lì. Questo è quello che dicono. La domanda è, le condizioni monetarie potrebbero continuare ad inaspirsi di fronte a un rallenamento potenziale e doloroso? Se la risposta è sì, ciò potrebbe essere negativo per gli 11 Stati Uniti. Petrolio e metalli preziosi, criptovalute e invece positivo per il dollaro americano. Quali mercati possono essere utilizzati per investire allora? Nel report trovi tutte le soluzioni più approfondite e meglio organizzate, ma in linea di massima dipende dalla strategia dei propri investimenti. Per un lungo termine puntare sull'S&P 500 potrebbe essere una mossa, ma se invece si trova ad essere un debole di cuore, che non ama le forti oscillazioni, puntare su strumenti quali oro e argento potrebbe farla da padrona. Rimane un enorme punto di domanda anche su petrole e su gas, che devono essere inquadrati nel momento e nel contesto attuale, per capire se la crisi ucraina porterà ad ulteriori momenti e se i paesi dell'Unione Europea sapranno trovare delle toppe momentane. Nel report si approfondisce anche il discorso delle valute e delle cripto. Lascio a voi andare a leggere per trovare la giusta interpretazione in base al posto e portafoglio, alla vostra percezione di rischio e al tipo di investitori che voi siete. Volevo ringraziare XTB per questo report, che potete scaricare in maniera gratuita e completa cliccando sul link qui sotto in descrizione. XTB tra l'altro ha iniziato una collaborazione con un nuovo brand ambassador, Conor McGrenor, campione UFC. Conor è originario di Cromling a Dublino, tra l'altro paese in cui ha vissuto per sette anni, l'Irlanda, e ha fatto la storia diventando il primo combattente nella storia UFC ad essere campione in due divisioni di peso diverse. Al di fuori dell'ottagono ha riscontrato un successo simile, ha fondato la propria number 12 Iris Whiskey nel 2018, che è diventato il marchio di whisky in più rapida crescita nel mercato. Oltre a questo marchio ha investito anche in una serie di iniziative imprenditoriali, fra cui Tidol, Recovery Spray, Megagor Fast Fisting Experience, il Black Forge Indie Dublino e la serie di videogiochi di Stopia, Conquest of Heroes and Forge Irish Stout. Questo portafoglio diversificato ha contribuito a posizionare Conor McGregor al numero uno della lista degli atleti più pagati da Forbes nel 2021. Bene, se questo video è stato il tuo gradimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente poco in poco, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimino, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovissimo video. A presto, ciao!